ciao a tutti e bentornati qua oggi vi farò vedere l'uscita numero 11 di kit e farò il live su instagram e il montaggio su kit si e il telaio guardate che bestia e poi ci sono dei passi qua non lo apro perché è meglio non perdere i passi e poi c'è la targa che ci hanno dato la scorsa settimana ve l'ho fatta vedere però non l'ho ancora aperta quindi ve lo voglio far vedere meglio e poi c'è il libro che adesso apriamo e vediamo cosa racconta il racconta del personaggio edward muller che ha inventato kit praticamente lui è un collaboratore con kit che ha inventato questa macchina e parla un po della sua storia di tutto e sapeva un po di inglese e poi ha fatto tutti questi film il colonnello la signora e il fantasma bay watch an axe e spiderman l'uomo ragno e qua ci sono il pezzo da montaggio c'è un consiglio che dopo leggo io e diventerà così il risultato non ho preso gli altri passi per non fare macello demon miles vedete perfetto questo è il libro e quindi ci vediamo in live su instagram mi raccomando e ciao e al prossimo video ciao